Quarta giornata, torneo CDM, girone B Grimaldi 85 contro Andromedica, una partita importante per capire se i Grimaldi 85 profitevano per non seguire su un cammino positivo e la vittoria per 3 a 2, testimonia che la squadra qui rappresentata da Francesco Scuderi può recitare un copione importante nel girone B. Allora siamo con il portiere assoluto migliore in campo, il mio vice assieme a Luca Villani che ha realizzato tra reti. Ciao Francesco. Buonasera. Allora Francesco, già ci eravamo accorti della tua qualità da portiere nella prima giornata quando ti eri permesso, oltre a fare grandissime parate, anche di segnare dalla tua porta. Oggi hai fatto il tuo mestiere, hai fatto le tue grandi parate e hai tenuto il risultato in un momento delicato del match. Che partita è stata per voi? La partita è un po' equilibrata, però tutto l'aspetto tattico abbiamo fatto una partita ottima, però c'è qualcosa da aggiustare, grandi feste, ma tutto sommato da fare così, piano piano recupereremo gli fortunati e andiamo avanti. Oggi soprattutto ho visto questo inserimento nuovo di questo ragazzo che ha fatto 3 gol, peso specifico all'inavanti, grandi dribbling, sa tenere palla, è un attaccante sicuramente completo. Un attimo giocatore, Luca già per ormai conosciuto da tempo, è un attimo ragazzo, è equilibrato, sa tenere palla, sa tenere l'avversario e meglio così, andiamo avanti in questa strada con questo ragazzo che si poterà avanti. Anche con il capitano che ci sta ascoltando, il vero Riscico Razio, ma a questa squadra qual è il suo punto di forza? Perché già racconto 6 punti su una nuova disposizione. Gruppo. Gruppo. Il vostro sostanziale, il gruppo, la maniera di start, concentrati, sono di battere, siamo avanti. Quindi il gruppo, e quali sono i propositi? Visto che appunto del gruppo si fanno buoni propositi e i punti stanno arrivando. I propositi di questa squadra dove vuole arrivare? Non è possibile. Mi auguro questo, però il campionato è difficile, non sono squadre ancora avanzate sull'antipendolo del gioco. Dobbiamo incontrare squadre forti, dobbiamo essere più combatti e dobbiamo andare avanti su questa strada. E invece Francesco Scuderi dal punto di vista dei titoli personali, anche come miglior portiere, cosa si augura? Mi auguro. Andare per la strada, purtroppo mi sono fermato con problemi familiari. Cerco di giovedere con i miei ragazzi e andare avanti su questa strada, più non andare così. Comunque complimenti perché il ragazzo c'è, ormai voglio dire, anche gli anni manna avanti, però la qualità è rimasta. Complimenti Francesco Scuderi e questo rimando è 85, che vince 3 a 2, acquisisce questi 3 punti importanti che lo fanno salire di posizione a 6 punti. Invece Andromedica dopo 4 punti rimane a 3 punti. Da Francesco Cosiccio è tutto, ringraziamo Francesco Scuderi. Alla prossima. Alla prossima.